Alleluia, il mio amore è il suo amore Alleluia, il mio amore è il suo amore Alleluia, il mio amore è il suo amore La sessione di San Charvel Maclouf, questo santo, adesso invochiamo tu che conosci che significa l'amore di Cristo, che hai vissuto nell'eremo di Annaia 23 anni, con la sofferenza, con digiuno, penitenza, ti preghiamo, intercedi ora per le nostre intenzioni. Così sia la volontà del Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. Dolce è il suo figlio Amén. 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 �eneia E 12 È il suo figlio Amén. Amén. canto polacco stai casa Grazie a tutti. Madonno, czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem był. O pozwól, czarna Madonno, w ramionach Twoje się słyszy. Allora, affidiamo ancora per intercessione della Madre Nostra, la Madre Madonna Nera, sempre una Madre. Ancora chiediamo per i nostri cani. Chiediamo con voi, che vi benedica, Dio onipotente, e i santi vi assistono a San Charbel, San Giovanni Paolo II, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amén. 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 che quando era, bambino, tu gli hai regato che cosa farete su di lui, che quando emozia che tu di nascosto, che angeli, madre, quando rendi mi mette con la bella, non si so per lui. Aaaaaaah!